Buonasera a tutti e benvenuti al primo incontro di oggi, di domenica, di un leggendo metropolitano che non smette mai di stupire. Io mi chiamo Davide Ruffinengo, faccio il libraio e quindi arrivo da uno dei mestieri che partono dal silenzio perché in teoria se il libraio fa davvero il libraio e legge parte da un profondo momento di silenzio che poi deve essere in qualche modo venduto. Ringrazio Saverio Gaeta perché è da cinque anni che mi dà l'opportunità di trasformare quello che leggo in un momento di divulgazione. Io ho sempre creduto, e lo faccio con il mio socio che anche lui si chiama Davide, in giro per tutta l'Italia, rivoluzionando un po' il nostro mestiere che è stato quello di uscire dalla libreria tradizionale, lo so, lo dico tutti gli anni ma abbiate pazienza in questi 30 secondi, per andare a portare i libri fuori nelle case della gente e quindi in un luogo diverso dal classico aspettare i lettori in libreria. Credo che il nostro mestiere sia un mestiere di trasformatori quindi della lettura e cercare poi di divulgare queste pagine per arrivare ai lettori e soprattutto per quanto ci riguarda ai non lettori. Perché dico grazie leggendo metropolitano? Perché è davvero un festival che riesce, lo dico senza retorica, a declinare un argomento in più punti di vista, a confrontarlo e fa veramente un lavoro formativo. Io credo che se si mettessero agli atti gli incontri di leggendo metropolitano diventerebbe davvero un libro che potrebbe diventare assolutamente uno strumento di formazione. Perché seguendolo da cinque anni, e se fate attenzione anche a quelli che saranno ancora gli incontri, insomma se ci fosse una politica attenta in Italia, Severio Gaeta e il suo staff dovrebbero lavorare al Ministero della Cultura. Ma lo dico davvero con cognizione di causa, non perché è un amico. Quindi il mio impegno è stato quello di fronte ad un appuntamento come questo, in cui si deve parlare del silenzio, appunti del silenzio, e lo faremo con Pinuccia Corrias, con Nicoletta Polla Mattiot e con Daniela Finocchi. Mi sono chiesto questa utilità, cioè di impegnarmi a tirar fuori qualcosa di concreto e quindi di cercare di declinare questi appunti del silenzio nella realtà di tutti i giorni. E comincerei con l'Accademia del Silenzio, fondata da Nicoletta con il professor Demetrio, perché c'è, a proposito di libri, ne parlavamo prima con Davide, c'è un rimando curioso ad uno scrittore che io amo molto, spagnolo, che è Riccardo Menendez Salmon, che, edito da Marcos y Marcos, pubblica un libro intitolato Gridare. E' la storia di un protagonista che affitta una stanza insonorizzata dove lui va, entra e grida. Dopodiché, non bastandogli di gridare da solo, chiede al proprietario della casa di essere pagato anche lui per ascoltare le proprie grida. Ora, da questo spunto narrativo, come nasce l'Accademia del Silenzio? Allora, io, prima di risponderti, ti rilancio subito anch'io invece con una citazione, visto che siamo qui a un festival di libri, e ti rilancio con Calvino, così gioco sul sicuro. E se posso però lo leggo, perché Calvino non si può raccontare. Vi leggo proprio solo un pezzetto che credo sia un po' la risposta alla domanda perché è un'Accademia del Silenzio. In un mondo in cui tutti pensano di avere qualcosa da dire e che lo abbiano o no lo dicono, anzi lo urlano, alti, compiaciuti, arroganti, antagonisti. In un mondo, un paese, un'epoca, in cui tutti si fanno in quattro per proclamare ai quattro venti opinioni e giudizi. In un mondo in cui parlare significa far valere la legge del più forte e il dialogo è, nella migliore delle ipotesi, dibattito. Il dibattito, nella migliore delle ipotesi, discussione. La discussione, nella migliore delle ipotesi, litigio. E il litigio è zuffa, piazzata, insulto, parapiglia. In un mondo in cui tutti parlano, di cosa non si sa, il signor Palomar ha preso, sente spesso, scusate, sente di aver spesso qualcosa da dire, ma ha preso l'abitudine di mordersi la lingua tre volte prima di cominciare. A fare qualsiasi affermazione, se al terzo morso della lingua è ancora convinto della cosa che stava per dire, la dice, se no, sta zitto. Di fatto, Palomar passa settimane e mesi interi in silenzio. E a questo punto io dovrei stare zitta, però, per adeguarmi a questa storia. L'Accademia del Silenzio nasce, ovviamente, non come una provocazione, ma sicuramente come, credo, la risposta a un bisogno molto sentito, che è appunto il bisogno di silenzio, in senso non assoluto, ma in senso relativo. Il bisogno di portare un po' di silenzio nella vita di tutti i giorni, perché in realtà credo che il silenzio e il tempo siano i due grandi lussi del contemporaneo. Sono due cose che tutti, almeno in teoria, vorremmo avere, di cui tutti vorremmo godere, ma che poi appunto rincorriamo e non troviamo mai. È molto facile andare a cercare il silenzio nei luoghi, diciamo così, del silenzio, o in alta montagna o in posti isolati. È molto difficile provare a portare invece il silenzio dentro queste vite sempre di corsa che tutti facciamo. Quindi l'idea di fondare un'Accademia del Silenzio era l'idea di provare a imparare a pensare al silenzio non solo come dimensione dell'assoluto o del sacro, ma anche come dimensione quotidiana. Io mi occupo del silenzio del 1988, quindi da tantissimo tempo, ma dico sempre che non mi occupo del silenzio assoluto, ma intanto dei silenzi al plurale e poi del silenzio relativo, inteso proprio del silenzio come strumento di relazione. Quindi silenzio come, e quindi tanto più mi sembra interessante essere in un contesto quale quello del Festival Leggendo Metropolitano che parla di legami, perché il silenzio è uno strumento di relazione e di ascolto. E l'idea di un'Accademia è proprio quella di imparare a rallentare, a regalarsi delle pause, appunto, degli interstizi, dei momenti che mettiamo tra le cose che facciamo tutti i giorni, delle dosi quasi omeopatiche di silenzio che ci insegnano da un lato a rallentare, dall'altro sono appunto un momento di pausa che ci mette maggiormente in relazione con noi, questo è il primo passo, ma non solo, ci mette in relazione con gli altri, e poi ci proietta in una dimensione sociale di ascolto un po' diverso dall'urlo, appunto, dal grido. Io mi occupo di comunicazione e quindi apparentemente è una contraddizione, un giornalista che lavora con le parole e che poi appunto fonda un'Accademia del Silenzio con un filosofo, ma io credo che la vera comunicazione si fonda sul silenzio. Ai nostri seminari uno degli esempi che di solito faccio è questo, noi siamo molto preoccupati, si parla molto di ecologia del pianeta, delle risorse non rinnovabili, siamo preoccupati per l'acqua che diminuisce, siamo preoccupati per la benzina, per il petrolio che non c'è. Nessuno di noi ha mai pensato al linguaggio come una risorsa esauribile invece che inesauribile. Se noi pensassimo che le parole che usiamo le possiamo usare una volta e poi non più, forse saremmo un po' più accorti nello spenderle e nell'impegnarli. E quindi di solito i nostri seminari li cominciamo così, pensando di fare pulizia, ricominciando un po' dal grado zero della lingua e provare a vedere quanto, quali sono le parole che vorremmo tenere per ultime, se potessimo usarle una e una sola volta. E forse ecco, le parole se poggiano su una base di silenzio forte, si rinnovano, hanno, Garetti dice che hanno una forza sorgiva, ma soprattutto hanno una maggiore capacità comunicativa. Ogni volta che noi rompiamo il silenzio, scegliamo di dire una cosa e lasciamo indietro un'immensità di parole che non diciamo. Questo da un lato è un abisso, no? Tutto quello che diciamo lascia indietro tutto quello che non diciamo. Così come tutto quello che ricordiamo lascia indietro tutta l'infinità di dettagli della nostra memoria che si perdono. Ecco, credo che iniziare a parlare con questa consapevolezza, non è che in Accademia del Silenzio siamo dei mistici che stanno zitti e che coltivano appunto il silenzio assoluto. Semplicemente il criterio è ripartire dal silenzio per rifondare un modo diverso di parlare, per appunto valorizzare le parole che nascono dal silenzio e dalla consapevolezza che parlare è una responsabilità, è una grossa responsabilità. Non fosse altro che per il fatto che mentre lo faccio scelgo alcune cose, scelgo di dirle e scelgo di lasciare in silenzio tutto il resto. E questo credo abbia un significato anche sociale importante perché mette... Lo do solo come cenno, poi non voglio tenere questo microfono troppo a lungo, se no appunto si parla di silenzio e io rischio di essere elogorroica e poi appunto questo voglio che sia più un dialogo. Però dire che ogni parola appoggia sul silenzio e quindi imparare a esercitarsi a vedere non soltanto quello che le persone dicono ma anche quello che non dicono, provare a guardare tra le parole, provare a guardare come dicono le cose, significa anche imparare ad ascoltare il sottovoce, imparare a guardare anche chi non parla, imparare a guardare anche chi non ha voce. E quindi appunto sono ovviamente soltanto dei cenni ma credo che le sfaccettature che il silenzio ha come percorso interiore e individuale, come percorso relazionale e poi come percorso sociale sia estremamente potente e soprattutto è un percorso infinito perché appunto io è dall'88 che me ne occupo e continuo a scoprire cose nuove, cose nuove con i compagni di viaggio di questa Accademia del Silenzio ma anche più che mai con le persone che frequentano la nostra Accademia perché appunto noi facciamo laboratori e seminari in cui interagiamo con i nostri allievi è una parola eccessiva, non so, i nostri iscritti che è meglio e davvero ci sono tanti silenzi, come ci sono tanti modi di dire la stessa parola così per ogni persona c'è un silenzio diverso. Senti, approfitto per chiederti una cosa però che è molto pragmatica nel senso che quando ringraziavo per l'opportunità leggendo Metropolitano perché davvero ho notato come approfondendo questo argomento del silenzio entri davvero un po' in te stesso perché banalmente il ragionamento è semplice se ognuno di noi si ferma a vivere un attimo di silenzio ovunque lo riesca a fare si accorge che però le orecchie non bastano mentre definendolo come assenza di rumore siamo abituati a pensare all'udito come l'organo del silenzio e quindi inevitabile chiederti qual è secondo te l'organo del silenzio. Credo intanto che ognuno abbia il suo organo del silenzio su questo bisogna un po' esercitarsi ovviamente non c'è un organo del silenzio quello che io credo sia il vero ascolto del silenzio sia un ascolto sinestesico cioè a cinque sensi anche qui ci si deve esercitare ci sono in realtà persone che hanno una propensione sinestesica l'ascolto sinestesico è quello del bambino appena nato quando appunto i sensi non sono ancora differenziati e quindi un sapore può avere contemporaneamente un colore e anche un suono un suono rievoca appunto magari una dimensione cromatica e contestualmente una sensazione diciamo i sensi non sono indifferenziati poi alcuni adulti conservano alcuni sensi collegati e la maggior parte di noi invece vede separatamente dall'udito insomma i sensi si differenziano però in realtà il silenzio si sente in tanti modi intanto bisogna imparare a stare in silenzio intanto non avremo mai una percezione del silenzio assoluto perché appena appunto si fa silenzio si iniziano a percepire non fosse altro che i rumori che il nostro stesso corpo produce per fortuna come il battito del cuore e finché c'è appunto quindi diciamo o ci siamo noi umanamente vivi o c'è il silenzio assoluto quindi diciamo la dimensione relativa del silenzio ci si può esercitarla a sentire non soltanto con le orecchie ma intanto con gli occhi con gli occhi è facile da capire Shakespeare diceva che ascoltare con gli occhi appartiene al fine ingegno dell'amore e parlando meno ci si guarda molto di più il silenzio è in assoluto il linguaggio delle emozioni voi notate quando si è fortemente emozionati quando si è travolti dall'amore o dalla passione o invece da un sentimento negativo il dolore, lo scoramento le parole risultano troppo strette troppo strette per contenere tutto quello che proviamo oppure opache non abbastanza limpide per far trasparire quello che sentiamo oppure non abbastanza mobili le parole sono fisse a volte e invece i nostri pensieri, i nostri sentimenti corrono più veloci ci sono molte situazioni in cui le parole non ci sembrano abbastanza nel bene e nel male nel senso sia in presenza di sentimenti molto coinvolgenti e belli come appunto l'amore c'è una letteratura sterminata sul fatto che gli amanti non parlano ma si guardano e invece appunto pensate alla dimensione del lutto quanto è difficile dire qualcosa che abbia un senso dire e quanto invece è più facile comunicare con il corpo con un abbraccio magari o con un silenzio partecipe ascoltare con gli occhi significa cogliere tutto il linguaggio non verbale quindi quello che non passa attraverso la voce ma che passa attraverso l'espressione attraverso gli occhi attraverso il sorriso attraverso i gesti ma non solo la comunicazione non verbale si capisce anche dalla distanza per esempio che tengono le persone fra di loro ci sono persone che hanno l'abitudine di parlare molto vicine altre che tengono sempre una certa distanza sono moltissime le informazioni che noi possiamo avere dagli occhi senza neanche ascoltare quello che le persone dicono e succede spesso che il linguaggio non verbale il linguaggio del corpo in realtà contraddice oppure invece rafforza quello che effettivamente il linguaggio verbale dice questo è un esempio ascoltare quindi con gli occhi e non soltanto con le orecchie su tutti gli altri sensi sarebbe un po' più lungo parlare ma forse solo per non lasciare senza risposta la tua domanda per spiegare come il silenzio attraversa tutti i cinque sensi io di solito faccio uso delle metafore perché le metafore aiutano molto a spiegare le cose senza bisogno di spiegazioni ma semplicemente a evocare se voi pensate ai modi in cui noi aggettiviamo il silenzio ci rendiamo subito conto che usiamo degli aggettivi che hanno a che vedere con i cinque sensi per esempio credo un'espressione che chiunque può aver usato è silenzio ovattato che evoca appunto un ambiente di culla un ambiente infantile magari appunto quando si cammina in punta di piedi per non svegliare quindi quasi un po' un silenzio regressivo di infanzia silenzio ovattato il richiamo è a una sensazione tattile quindi stiamo parlando appunto di un senso che non ha nulla a che vedere con le orecchie altra espressione spesso si dice un muro di silenzio pensata all'idea di rigidità un muro di silenzio oppure stendere un velo di silenzio che invece è una sensazione impalpabile oppure altra espressione popolare acqua in bocca che dà una dimensione invece assolutamente liquida insomma si può girare intorno alle metafore e ognuna evoca una dimensione diversa del silenzio pensate anche solo a come la gestualità che richiama il silenzio di volta in volta si sposta sul viso perché uno dei segni tipici è mettere il dito davanti a naso e bocca ma pensate alle scimmiette non vedo, non sento, non parlo che è il silenzio totale l'isolamento la dea del silenzio che è Tacita Muta è rappresentata invece con la bocca bendata e quindi abbiamo già naso, occhi, bocca sono soltanto spunti ovviamente quelli che vi sto dando ma credo che ciascuno abbia un senso prevalente ci sono appunto persone più visive persone più uditive ci sono persone a cui per esempio il silenzio fa paura e quindi tendono a romperlo e a parlare molto e quindi in qualche modo la dimensione acustica altre invece che patiscono il silenzio degli altri quindi non esercitano l'osservazione come strumento di comunicazione l'ascolto sinestesico è la dimensione di tacere semplicemente e riuscire ad aprire tutti i cinque sensi con la consapevolezza di tutto quello che sta succedendo intorno di chi ci sta davanti e anche con la consapevolezza di se stessi guarda com'è tecnologica la Daniela Finocchi che ti fa un tweet in diretta così che non è molto silenzioso ma però è stata molto discreta ed è proprio a Daniela Finocchi che ha ideato un concorso letterario nazionale che è Lingua Madre a cui farei una domanda molto secca in apparenza semplice ma il silenzio può essere definito la madre di tutte le lingue? scusa va bene allora il silenzio può essere definito la madre di tutte le lingue il silenzio femminile forse sì e spiego intanto forse ecco perché ha messo un uomo a moderare l'incontro ho capito no dico ricordo brevemente che cos'è il concorso perché forse insomma non è detto che tutti lo sappiano è che è un concorso appunto diretto alle donne straniere residenti in Italia e alle donne italiane che vogliano raccontare le donne straniere ed è un progetto ormai un progetto che esiste da nove anni un progetto permanente della regione Piemonte del Salone Internazionale del Libro di Torino col patrocinio della Commissione Europea ecco cosa c'entra il silenzio con le donne perché se no non si capisce anche la relazione tra il concorso e l'Accademia del Silenzio il concorso è nel comitato promotore dell'Accademia quindi ecco in che senso si legano questi discorsi la storia delle donne è stata a lungo caratterizzata dal silenzio un silenzio inteso però come rimozione svilmento negazione della soggettività e poi è stato un silenzio a lungo cercato invece dalle donne per sottrarsi a quella lingua che è espressione della cultura patriarcale e che non riconoscevano come propria era in qualche modo una lingua straniera nel senso che gli è stranea infatti noi nel concorso le donne sono chiamate benché straniera a scrivere in italiano e lo spieghiamo anche con questo cioè da una parte perché vabbè è ovvio vivono in Italia qui lavorano magari se sono sposate hanno avuto dei figli e va bene è giusto che si esprimano con la lingua del paese dove adesso si trovano però d'altra parte diciamo che in fondo le donne sono abituate a esprimersi in una lingua che non le appartiene nel senso che appunto come stavo dicendo è espressione di quella cultura con la C maiuscola a cui non sono mai state chiamate e quindi in qualche modo le donne di qualsiasi parte del mondo sono abituate a esprimersi in una lingua straniera nel senso appunto questo senso che gli è estranea e poi però le donne attraverso la scrittura hanno imparato a dare corpo e senso a questo silenzio no? La Gillingen dice che le donne arrivano alla scrittura dopo la scoperta di se stesse e allora per non essere da meno di Nicoletta di leggere e anche io un pezzetto che mi sembra chiarificatore no grazie di una delle autrici noi poi ogni anno col concorso pubblichiamo un libro che raccoglie racconti selezionati e questa è un'autrice indiana Laila Vadia che scrive questo racconto dedicato al figlio e lo conclude scrivendo il mio silenzio è e non può che rimanere orientale non è un silenzio rancoroso o intriso di sfiducia non è il mero opposto del rumore non implica una chiusura verso un mondo troppo suscettibile il silenzio orientale è privo di giudizio e di conseguenza scevro di dolore è il silenzio degli suami un'assenza che implica liberazione dal desiderio e dall'attaccamento elevazione dello spirito etere in cui trasmettere sentimenti puri è l'unica dimensione in cui in nome dell'amore l'io può essere scalfito quindi figlio mio ricorda sempre che quando vorrai ascoltare davvero la voce di tua madre dovrai ascoltare i suoi silenzi certo posso? mi introduco perché mi piaceva ancora di più sottolineare questo legame appunto tra Accademia del Silenzio e Lingua Madre rispondendo anch'io alla tua domanda il silenzio madre di tutte le lingue che è una domanda bellissima per questo la volevo anch'io e quindi mi sono appropriata del microfono perché se voi ci pensate il bambino viene definito è l'infans cioè è colui che non può parlare che non ha ancora la parola e noi diciamo lingua madre perché chi è che gli passa la lingua è la mamma si parla di lingua madre proprio perché la mamma passa la lingua al bambino ora volevo rispondere alla sua domanda raccontando in due minuti per non rubare altro tempo a Daniela questa teoria di questo neurobiologo che si chiama Jean-Pierre che ha una teoria bellissima che secondo me è assolutamente in linea con le cose che stiamo dicendo cioè Jean-Pierre Sangeau sostiene che in realtà i bambini imparano la lingua per sottrazione non per accumulo cioè noi siamo abituati a pensare che una lingua si impari man mano accumulando delle parole man mano il bimbo impara a dire mamma poi papà e poi via via frasi e parole sempre più complesse invece Sangeau dice proprio perché non parla il bambino proprio perché non ha ancora le parole in realtà è totipotente può parlare potenzialmente tutte le lingue del mondo infatti se lo stesso bambino cambia paese e viene per esempio adottato in un altro paese parlerà benissimo la lingua della sua mamma appunto perché passa la lingua madre allora cosa dice Jean-Pierre Sangeau che in realtà l'apprendimento del linguaggio è come un setaccio cioè il bambino parla tutte le lingue del mondo e le confronta con la mamma e in quella specie di bbbbb il balbettio e l'azione che si fa proprio nella prima fase della vita si confronta e quando la mamma appunto riconosce il m-m-m pensate no? m-m-m uno dice mamma ha detto la prima parola mamma allora inizia a riconoscere che cosa è il linguaggio comprensibile e che cosa no e via via sottrae tutte le altre parole che non sono utili nella lingua madre quindi la teoria di Charjot detta proprio in maniera iperasintetica è che si impara per sottrazione e non per accumulo credo che questo dia molto l'idea del silenzio e della dialettica parola e silenzio spero di aver risposto alla tua domanda ma se posso aggiungere una cosa c'è anche qualcosa di più perché noi proprio nel lavoro che stiamo facendo anche con Pinuccia Corias che fa parte del gruppo di studio del concorso che sta lavorando a questi testi che in nove anni sono moltissimo materiale abbiamo raccolto quest'anno le autrici che si sono rivolte al concorso sono state quasi 300 quindi nove anni abbiamo veramente un materiale che è anche a questo punto fonte di analisi sociologica quindi che stiamo insieme un gruppo di docenti italiani e straniere che sta lavorando per dare una lettura anche diversa del fenomeno migratorio che tenga conto di questa forte presenza femminile ormai soprattutto in paesi come l'Italia e su questo discorso della lingua madre molto abbiamo riflettuto e qual è la lingua madre non è detto che sia quella che ti insegna quella materna che ti insegna la mamma e per esempio una delle docenti che fanno parte del gruppo che è sposata con un americano quindi la figlia lei è italiana ma la figlia parla italiano e inglese e lei diceva che quando sono loro madre figlia in Italia e non vogliono far capire a chi è con loro quello che si dicono parlano in inglese ma quando sono in America e non vogliono farlo parlano in italiano quindi qual è la lingua madre e poi su questo insomma si potrebbe dire tante cose senti però voglio ancora chiederti una cosa non mi sono dimenticato di Pinuccia Corriels che ha un ruolo di doppia testimone uno è riguardo a questo rito magnifico di cui lei è testimone che ci racconterà tra poco ed è anche una testimonianza di assorbimento di questo leggendo metropolitano e ci racconterà tra poco le sue testimonianze non mi è sfuggita all'inizio la sottolineatura il silenzio delle donne si è parlato di mamma vorrei tirare in causa il nostro genere maschile che differenza c'è quando tu dicevi il silenzio delle donne è diverso a quale sorgente attingono le radici maschili e femminili del silenzio trovi che siano così tanto diverse sì qua pinuccia questa mi spetta il silenzio delle donne è che le donne sono state tacitate non che le donne avevano come dire avevano un loro silenzio che è il silenzio che riempie l'anima la vita che permette di far esistere la realtà e questo vale per i maschi e per le donne il punto è che la storia è andata avanti almeno nelle sue forme più macroscopiche perché le donne libere e capaci di parola ci sono sempre state però la storia almeno nelle sue manifestazioni diciamo più macroscopiche ha tacitato le donne e ha fatto sì che l'uno diventasse comprensivo del maschile e del femminile e il neutro diventasse la parola sul mondo oggi le donne dicono che esiste una misura femminile che può restituire parola parziale ma più portatrice di verità e alle donne e agli uomini questo concetto della restituzione mi interessa molto rispetto al concorso quindi i racconti delle donne che poi partecipano appunto al concorso lingua madre in che misura puoi testimoniare e confermare che come diceva qualcuno credo Gesualdo Bufalino le parole sono la chiave mentre il silenzio il grimaldello quindi quanto il racconto del silenzio di queste donne che poi partecipano che raccontano a lingua madre davvero è stato così quindi un silenzio che è diventato grimaldello e poi la parola al servizio di questo silenzio che diventa racconto e quindi anche libro da leggere come dicevo appunto prima è poi un silenzio che si fa corpo attraverso le parole no? e quindi le donne che si rivolgono al concorso insomma costituiscono un panorama molto diverso ecco molto differenziato ci sono donne che per la prima volta si avvicinano alla scrittura altre che invece la utilizzano come abitualmente insomma anzi poi sono diventate magari proprio scrittrici grazie a questa esperienza del concorso benché questo non sia lo scopo del concorso perché quello che vuole essere è uno spazio per dare voce che sembrano una contraddizione però a chi abitualmente non ce l'ha quindi ecco perché le donne straniere che nell'ambito della migrazione se vogliamo sono discriminate due volte in quanto straniere e in quanto donne e essere per quanto riguarda gli italiani e le italiane un'opportunità di ascolto quindi un darsi tempo sia per avere voce e sia in termini di ascolto in questo senso credo si leghi al lavoro dell'accademia non so se mi è mai capitato di camminare su un pavimento vulcanico quando sei su questa crosta stranissima e senti un bollore sotto ecco così secondo me è Pinuccia Corrias perché sento che c'è un vulcano di racconti di storie che deve esplodere quindi nel rispetto dei tempi rigoroso di leggendo metropolitano io passo la parola Pinuccia Corrias sì la quale aveva preparato tutto per far sì che la lava fosse un pochino composta e quindi aveva preparato un compito adesso il compito non ci sta più e quindi insomma daremmo il via alla lava e quel che viene viene partendo proprio dal silenzio delle donne partendo da questo fatto che noi viviamo normalmente nel rumore proviamo a pensare anche leggendo anche il festival non può essere preso da qualcuno che lo guarda da fuori o come un grande rumore o come una vetrina per scrittori filosofi o insomma autori più fortunati e invece se nasce all'interno di un reale confuso e rumoroso un testimone il testimone ha la capacità di trasformare quel reale in realtà dotata di senso e dotata dunque di uno spessore simbolico ed è quello che è capitato faccio i tre esempi se ce la facciamo ad approfondirli bene se ce la faccio a raccontarli come li ho scritti bene e se no ve li andrete a vedere pensate al silenzio di un sepolcro vuoto Giovanni capitolo ventesimo arriva Maria di Magdala che ha vissuto tutta la il dramma del rumore del processo della crocifissione e di fronte ad un sepolcro vuoto corre da pietro e cosa gli dice hanno trafugato il corpo del signore inventandosi una soluzione che lega la causa all'effetto e che rende totalmente disperante quella realtà è quello che ci avviene è quello che avviene per noi oggi molti di noi quando dentro la crisi non riusciamo a vedere altro che il vuoto del futuro che ci aspetta più che noi nostri figli e siccome leggendo metropolitano anche questo aspetto ha toccato anche io come testimone di questa magia di questi giorni di festival mi voglio collegare mi sono voluta collegare a questa crisi nella quale noi stiamo allora Maria di Magdala Pietro arriva osserva vede il sudario vede i panni piegati e amutolisce non ha niente da dire Giovanni il giovane apostolo discepolo amato da Gesù entra vede e crede e poi sicuramente allora scrive il prologo il verbo era presso Dio e il verbo si fece carne e a chi credette diede il potere di diventare figli di Dio Dio nessuno lo vede ma lui il figlio lo vede lo testimonia e questa è la base del cristianesimo un sepolcro vuoto e un testimone a Sabamuda quando qui ci sono delle mie amiche di Macomere quando gli ho detto io volevo scrivere questa cosa su Sabamuda Maria Luisa la mia amica più cara andate in giro a chiedere nessuno sapeva niente di Sabamuda ero solo io me l'ero sognata no non me l'ero sognata io ero stata una testimone di che cosa del fatto di un rito i riti come voi sapete nascono dall'ordinario vi ricordate il piccolo principe addomesticami e che vuol dire addomesticare creare legami la volpe e la rosa ma ci vogliono i riti per addomesticare e che cos'è un rito un rito è ciò che fa un giorno diverso da un altro giorno sei nove giugno a Cagliari giorni diversi dagli altri giorni per quale rito per il rito che è il festival leggendo metropolitano se c'è un testimone lo capirà se non c'è passerà in vano ritorniamo a Sabamuda il 24 di giugno nelle strade della Sardegna soprattutto di quando io ero bambina c'erano sicuramente tanti sterpi e noi sappiamo che il fuoco è ciò che pulisce tutto come l'acqua del resto da bambine noi avevamo il compito di a corona allontanare lo sporco dalla porta di casa ma gli sterpi e cespugli erano compito dei giovani e allora i giovani preparavano i fuochi di San Giovanni raccogliendo sterpi di tutte le strade qualcuno annuisce e certo esiste ancora raccogliendo gli sterpi e poi andando in campagna a portare le spighe non ancora mature le bambine inventavano la filastrocca comare o mare suvani sposare suvani allegria comare vizzamia ed era il matrimonio delle bimbe che già piccole donne sapevano come si rinsaldano i legami come si creano le amicizie come nel rito e nella formula rituale l'amicizia dura e non prevede il tradimento invece i giovani gli adolescenti e io lo ero ero appena uscita dall'infanzia avevano la possibilità di andare per strade non aperte gli altri giorni potevano andare di sera poteva capitare per esempio di arrivare fino alla rocchita come era capitato a me e di poter saltare il fuoco dei sette fratelli castori i fratelli più belli di Macomere che ti prendevano per mano ti facevano saltare il fuoco e tu ti guardavi intorno e vedevi sugli usci i vecchi che sorridevano perché così nasce l'amore perché quello è l'imprinting delle relazioni durature del corpo che si apre dell'abbandono che nasce della complicità della fiducia e quando alla fine qualcuno grida a Savva Muda all'acqua muta in fila indiana si va per il sentiero tortuoso che porta fuori dal paese a Fontane Gannones dove scende l'acqua dove i pastori fermano le greggi o le bestie in genere prima di entrare in paese e si beve l'acqua si chiude la bocca in silenzio si ritorna il battito dei cuori si sente quello dei maschi noi femminucce lo sentivamo tremanti arrivavamo alla fine sul fuoco a buttare l'acqua che non c'era ovviamente ma che cosa era avvenuto nel frattempo era avvenuto che maschi e femmine avevano imparato a stare insieme ad aprirsi nel rito perché il rito crea legami e lascia benevolenza io sono venuta qua mi sono inserita in questo festival da neofita da come dire da estatica da una che ascolta e guarda e aspetta e dice che bello che bello che bello e ho sentito ho sentito ho ascoltato e ho visto la magia il silenzio il testimone e la magia questo crea l'evento e questo crea la possibilità che dal silenzio della paura che dall'angoscia dell'ignoto che dalla come dire dal timore che la crisi mette dalla divisione che le difficoltà creano nasca qualcosa di diverso ancora una volta la voce di mia madre la lingua materna non sono solo le parole non è solo il ritmo la lingua della madre è quella che ti dà le visioni del mondo vai mi dice mia mamma in italiano lei che parlava sempre in dialetto vai in una notte fredda d'inverno a me che ero una piccola bambina di a zia miniu che venga a scaldarsi al fuoco e lui che dormiva nel magazzino degli attrezzi arriva e porta con sé una canna e mentre si siede accanto a me al caminetto intaglia uno zuffolo e poi lo suona che cos'è leggendo Mertopolitano se non questo se non questo persone che arrivano da tutte le parti filosofi poeti oppure semplici uditori qualcuno suona lo zuffolo qualcuno dice come il primo che ha parlato lo scrittore dice io sono venuto qua alla fine per dire che tutti siamo centurioni romani oh ho pensato io il solito maschio centurioni romani sono la forza no? e poi mi sono detta mentre preparavo l'intervento centurione romano ma certo centurione romano è quello che di fronte a un giovane crocifisso morto di sanguato dice ma costui è il figlio di Dio cioè il poeta l'angelo necessario il chimico penso alla prima sera che non avevo preso le cuffie non ho capito niente ovviamente di quello che ha detto Hoffman eh però sono quelli che cosa fanno? creano la magia creano i legami la comunione perché non basta la compartecipazione la condivisione ci vuole la comunione delle anime e la comunione delle anime avviene eh e accade adesso non mi ricordo come l'avevo finita ve la leggo bene però perché mi piaceva come l'avevo l'avevo scritta tanto nel tempo ci sto e l'avevo scritta così non solo con divisione non solo i dariettani semplicemente con partecipazione ma avere e propria comunione di anime in cui l'incontro ci fa credere di essere tutti e tutte come diceva proprio nell'incontro di apertura del festival Andrea Baiani centurioni romani e io il primo giorno non ci ho creduto perché ho pensato che intendesse soltanto parlare di forza che ci aiuta a vincere ma che non è sufficiente oggi so che la magia che lui annunciava è riuscita infatti il centurione romano come Giovanni come ogni testimone che più ha mostrato la sua fede è quello che di fronte a un giovane crucifisso che muore di sanguato esclama è statico questo davvero era il figlio di Dio perché Dio di certo non è un uomo come ha detto proprio ieri la nostra teologa svizzera in es pretorius ma con altrettanta certezza Dio accade e quando accade come è accaduto in questo festival è speranza gioia ripresa la crisi è finita ve lo dico io visto che c'è ancora un po' di tempo vi chiederei se avete qualche domanda approfittiamo sono state bravissime in attesa che eventualmente si crei qualche domanda io chiederei Nicoletta e Daniela qualche condivisione a caldo in diretta rispetto a quelle che sono state le parole di Pinuccia quello che mi veniva mentre lei stava parlando mi veniva in mente in realtà quello che dice un filosofo che io amo molto che è Roberto Mancini che dice che in pratica il silenzio è l'apertura all'altrimenti ed è l'accoglienza al mistero cioè la disponibilità ad accogliere il mistero proprio perché anche noi siamo un mistero per noi stessi e stiamo poco in silenzio e stiamo sempre con la radio accesa o con il rumore di sottofondo perché a volte fa paura conoscere i propri misteri quindi accoglienza innanzitutto ai propri misteri alla propria identità completa che non si finisce mai di conoscere c'è uno scrittore meraviglioso che racconta che l'identità di ciascuno è un giardino di cui si impara a conoscere appunto la foglia il fiore la siepe e poi i frutti e poi insomma quando si è finito di conoscere tutto il giardino si scorge una piccola porta si apre questa porta e c'è un altro giardino con delle altre siepe degli altri fiori e così via e ogni giardino dà accesso ad un altro giardino e così via quindi appunto ospitalità a questo mistero infinito che è la conoscenza di sé ma ospitalità al mistero dell'altro significa anche ospitalità all'alterità e quindi all'accoglienza dell'alterità mentre spesso con le parole noi cerchiamo di adeguare a noi gli altri molto spesso uno ci racconta qualcosa che gli è successo e la prima cosa che ci viene da dire è anche a me è successa quella cosa lì che è un modo per come dire riflettersi nell'altro per proiettare nell'altro qualcosa di noi non è la dimensione dell'ascolto e della disponibilità appunto all'accoglienza al mistero mi sembrava ci fosse molta risonanza in quello che diceva Pinuccia l'altra cosa bellissima ed è sempre di un filosofo è un aneddoto ma trovo che appunto il tuo parlare per immagini è poi quello che aiuta di più a capire anche perché il silenzio è come la pentola d'oro sotto l'arcobaleno la insegui e si sposta sempre un po' più in là questo è un altro aneddoto filosofico scusate cito solo filosofi stasera ma comunque è la storia raccontata da Giuseppe Ferrario che davanti ha una chiesa a Napoli c'è un venditore ambulante che vende le statuette del santo alcune statuette costano un euro sono statuette che appaiono assolutamente identiche alcune statuette costano un euro e altre statuette costano dieci euro il santo è assolutamente identico il colore è identico il materiale sembra identico allora il filosofo si avvicina a questo venditore ambulante e dice ma scusami ma perché queste costano dieci euro e questa costa invece un euro il venditore ambulante solleva la statua del santo e sulla testa del santo fa questo gesto cioè picchia tocca la testa del santo e a quel punto dice perché questa statua è vuota questa statua ha un'anima e per questo risuona ecco quel vuoto quell'immagine della statua vuota credo sia la dimensione più bella dell'ascolto cioè quando siamo in grado di fare dentro di noi quello spazio vuoto che ci permette non soltanto di ascoltare le parole degli altri ma ci consente che le parole degli altri in qualche modo ci restino dentro e mantengano per qualche tempo uno spazio di risonanza ci risuonino dentro come appunto in quella statua vuota che ha potere di suonare e di risuonare a contatto con l'altro che può essere quello che ci dice l'altro o anche il contatto con un gesto ecco credo che la capacità di ascoltare in silenzio e di accogliere il mistero sia questa capacità di mettersi in risonanza con gli altri volevo dire qualcos'altro a proposito del silenzio il silenzio è anche generante il silenzio è il luogo in cui i tempi si uniscono nel senso che è il silenzio che custodisce penso sempre adesso non so se mi vengono le parole giuste ma penso sempre al Vangelo con Maria che custodiva e meditava in cuore ciò che succedeva e quanto noi donne conserviamo proprio se pensiamo al nostro rapporto con i bambini quanto conserviamo dentro ed un certo punto questo aver conservato trova nel fatto reale la possibilità di far scattare un legame tra i vari segni e far sì che la realtà parli e far sì che la realtà ci dica qualcosa e far sì che noi finalmente capiamo e questo è il silenzio che non è mutezza è il silenzio che è conservazione del mistero fino a quando il mistero non si apre è il chimico che trova la formula è il poeta che trova la parola che finalmente dice l'indicibile è l'angelo che annuncia l'invisibile sì io invece mi rifaccio sempre ai racconti che arrivano al concorso dalle donne dove le donne rielaborano le proprie esperienze e le condividono attraverso la scrittura che diventa stanza per sé aperta all'altro agli altri no e quindi diventano intanto narrano queste loro storie sfidando i luoghi comuni gli stereotipi e narrando il cambiamento di cui sono protagoniste soprattutto le donne straniere insomma e diventano testimoni di quello che scrive poi Luisa Muraro di un modo diverso di affrontare anche questi temi che allo scontro contrappone allo scambio che alla strenua difesa dell'identità contrappone il riconoscimento reciproco nell'alterità un modo come appunto scrive Muraro un modo che non è contro ma altrove e altrimenti da dove previsto che non si muove individualmente né collettivamente ma in relazione e in una dipendenza reciproca che è valore umano per la collettività grazie a tutti per la collettività